Tecnica di normalizzazione per un sacro contronutato. Prima di iniziare la tecnica preparo il paziente, effetto anche qui una interrotazione delle gambe, posiziono la mia imminenza terna e ipotena sulle basi sacrali, mi avvicino sempre più alla barriera, una volta che sono arrivato in barriera effetto un thrust sempre in direzione del lettino. Ciao.